Ciao a tutti, oggi parleremo di DJ Tennis e della sua uscita su DJ Kicks DJ Tennis che all'anagrafe si chiama Manfredi Romano è un DJ italiano che ha la sede a Berlino si è spostato a Berlino perché Berlino è un po' la capitale ormai europea della musica elettronica soprattutto di un certo tipo non commerciale ma più tecno e derivati DJ Tennis non nasce come DJ ma nasce come produttore e come manager di altri artisti quando incontra Greg Oreck dei Tiger Fucker crea l'etichetta Life and Dead con cui produrrà le sue produzioni ma anche di altri artisti come Tiger Fucker e Tale of Us duo elettronico italiano anche loro a Berlino ma che suonano soprattutto a Ibiza l'altro anno avevano una residenza famoso space di Ibiza che proprio l'altro anno ha chiuso dopo 27 anni di carriera quindi DJ Tennis è un DJ atipico perché proviene da un altro mondo anche da altre cose lui ha fatto sonorizzazioni musicali ha lavorato come consulente musicali per Sorrentino, Garrone ed altri creandoci quindi una libreria di suoni, di loop, di cantinamenti che poi ha deciso di usare come artista, come produttore con il nome iniziale di Tennis e il DJ verrà dopo è un lavoro complesso e anche un po' ostico in qualche punto soprattutto il CD numero 1 perché guarda un po' l'ambiente tanto è vero che ci sono artisti come Alva Noto Yuchi Sakamoto oppure John Hopkins che sicuramente non fa musica elettronica facile ci sono anche Mouse on Mars e Atom TM e Caliboo visto che DJ Tennis comunque aveva già remixato un suo brano il CD numero 2 si fa più ritmato qua la battuta è abbastanza costante e ci sono personaggi importanti tipo Biosphere DJ Tennis stesso con Futurely Think DJ Tennis deve il suo approccio a questo tipo di musica molto a Think visto che era un suo promoter inizialmente e grazie a lui ha iniziato a fare musica elettronica è un CD che comunque appare più adatto a un ascolto in cuffia rispetto che ha un dance floor ci sono anche riferimenti a House con Hallowence di Isoli ma c'è Dub Tecno con Basic Channel e Mono Lake un inedito degli israeliani Red Axis insomma è un lavoro interessante da ascoltare DJ Tennis rimane forse uno degli italiani più quotati all'estero forse più all'estero che in Italia visto che raramente viene in Italia e suona moltissimo negli Stati Uniti, a Ibiza come già detto e in altre parti del mondo è un personaggio eclettico tant'è che una sua playlist su Spotify che si chiama Roat Trip che ha 587 brani a personaggi di tutti i tipi da Gary Newman a Cloud Dead a Trent Moller naturalmente Terry Riley Prefuse 73 Blonde Red Dead Pink naturalmente Apex Twin ad esempio questo CD un bar che si chiama Raum Paul in una versione DJ Tennis Technoid version che onestamente ricorda certe cose di Apex Twin stesso quindi come vedete il lavoro è variegato non è solamente musica da dance floor come già detto ma è anche musica d'ascolto forse più d'ascolto che da dance floor DJ Tennis suona in tutto il mondo suona tra Ibiza la Germania stessa ogni tanto viene anche in Italia Miami personalmente l'ho scoperto guardando un video di Burning Man Festival della sezione Robot Heart cioè di quel autobus Greyhound americano adibito a discoteca viaggiante dove lui suonava alcuni dei suoi brani tra cui Outcast featuring Pillow Talk brano con delle ritmiche sincopate ma dove c'è presente un coro un coro di voci è un organo se potremmo chiamarlo un suono synth che però assomiglia molto a un organo è un brano che mi piace molto che a tutt'oggi se posso lo inserisco nei miei DJ set la sua prima produzione è del 2012 e si chiama Make it Good ed è un EP un extended play DJ Tennis è un DJ che ha rimixato personaggi famosi tra cui Caribù io vorrei segnalarvi anche questo lavoro si chiama Division e Serality dove c'è anche una versione remix di Blade e di Roman Flugel la peculiarità di DJ Tennis è quella di nascere come DJ a tarda età cioè dopo i 40 anni circa e quindi di avere un background musicale visto il lavoro che faceva di promoter e di agente molto ampio questo traspare un po' nei suoi lavori perché sono eterogeni appunto e rimandano a diverse cose che lui probabilmente ha sentito nella sua vita non si rifà esattamente a un canone stilistico da discoteca, da tecno ma mischia un po' di elementi insieme grazie per aver visto questa terza puntata iscrivetevi al canale di YouTube mandatemi i commenti ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.